O l'Europa cambia marcia nell'economia o diventeremo fanalino di code del mondo, lo ha detto Matteo Renzi all'Europarlamento di Strasburgo, chiudendo il semestre a guida italiana. In questi mesi sono state fatte nuove scelte importanti, ha aggiunto il Premier, ma ora si deve e si può fare di più. Violato da cyberterroristi e già riattivato l'account Twitter del Comando Centrale delle Forze Armate USA e il CENTCOM, pubblicati tra l'altro gli indirizzi degli altri ufficiali americani e i nomi dei loro familiari. E in Francia, dopo i terribili attacchi dei giorni scorsi, si cercano ancora sei persone ritenute appartenenti alla stessa cellula dei tre terroristi uccisi. Domani intanto torna in edicola Charlie Hebdo dopo la strage di otto redattori. Sulla copertina Maometto regge il cartello Je suis Charlie in alto e il titolo tutto è perdonato. Migliaia di fedeli in festa hanno accolto il Papa al suo arrivo a Colombo nello Sri Lanka, prima tappa del viaggio apostolico in Asia, che lo porterà anche nelle Filippine. Occorre promuovere riconciliazione, solidarietà e pace, ha detto Francesco, ricordando la guerra civile che per anni ha insanguinato lo Sri Lanka, imponenti le misure di sicurezza. Messaggi e Twitter di solidarietà per Emma Bonino, che ieri a Radio Radicale ha annunciato di avere un tumore ai polmoni che richiederà una chemioterapia di sei mesi. L'ex ministro degli esteri, 66 anni, ridurrà la sua attività senza lasciare la politica. Avvisi di garanzia anche ai vertici di autostrade per l'Italia. Conclusione delle indagini della procura di Avellino sull'incidente del 28 luglio 2013, dove morirono 40 persone a bordo di un bus precipitato da un viadotto della A16. Tra i 15 indagati, la di Giovanni Castellucci e il direttore generale Riccardo Mollo. Le ipotesi di reato sono disastro colposo e omicidio plurimocolposo.